Con il convegno ai Dolci d'Italia, materie prime di qualità in pasticceria, ospitato dalla Sala d'Armi del Castello di Scilla, ha preso il Via Scilla 365, il nuovo progetto di promozione turistica e territoriale del Borgo di Scilla e della Costa Viola, fortemente voluto dalla Proloco Scillese e dalla società New Talk SRL, che scandirà con una serie di eventi tutto il 2017. Un momento di confronto moderato da Domenico Britti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, improntato sulle eccellenze che caratterizzano i prodotti del settore, e che ha visto protagonisti introdotti dal Vice Presidente della Proloco, Angelo Marra, Federico Infascelli dell'Università Federico II di Napoli, Pier Giorgio Topini, Presidente dell'Accademia Eno-Gastronomica di Roma, Claudio Pica, Presidente del Comitato per la Valorizzazione del Gelato Artigianale Italiano, Paolo Caridi, Responsabile Manifestazioni, Associazione Pasticceri Reggini, Vincenzo Pennestri, Presidente Associazione Nazionale Gelatieri, Angelo Musolino, Presidente APAR e Davide De Stefano, Responsabile Regionale, Compaiti Gelato. Un coro di esperti concorde nell'evidenziare la necessità di avvalersi di materie prime di alto livello per la realizzazione di prodotti dal target elevato, che vadano incontro al consumatore e nel contempo promuovono le zone da cui si producono. Argomento questo che ha occupato anche gli interventi dei rappresentanti istituzionali, l'importanza delle sinergie positive per il raggiungimento di obiettivi mirati per la crescita del territorio è stata sottolineata da Pasqualino Ciccone, sindaco di Scilla e dall'assessore alle attività produttive del Comune di Reggio Calabria, Saverio Anghelone. I relatori hanno fornito interessanti escursus e spunti di riflessione sull'utilizzo di materie prime di qualità nel comparto dolciario e gelatiero e nell'enogastronomia in generale, focalizzando l'attenzione anche sulle opportunità che riguardano la tutela ambientale e la valorizzazione delle professionalità. A margine del meeting Riccardo Fazzolari è stato insegnito del titolo di Cavaliere del Gelato. La due giorni che ha avviato il format Scilla 365 si è conclusa con l'evento Expo Pasticceria e Gelateria organizzato da APAR, Compait, Gelato e Siga, associazione italiana gelatieri che ha deliziato i palati dei visitatori con una degustazione di dolci della tradizione legati al Carnevale. L'iniziativa, aperta al pubblico e gratuita, ha richiamato nelle sale espositive del Castello di Scilla numerose presenze ed ha rappresentato l'occasione per la presentazione al pubblico di Italico il gelato che spacca ma unisce, poiché annovera tra i suoi ingredienti il torcolato di Breganze, i fichi dottati di Calabria e la ricotta marronaro di Pizzoli. I dolci dell'Expo Pasticceria e Gelateria sono stati poi donati in beneficenza agli istituti Casa della Carità e Casa Alloggio per Anziane di Scilla. Scilla 365 torna l'11 ed il 12 marzo con il primo trofeo Città di Scilla ed il terzo autoslalom Scilla Melia, suggestiva gara, che si svolgerà nell'incantevole panorama della Costa Viola.